La maggioranza del Presidente Oliverio ormai scricchola giorno dopo giorno. L'ultima defiance è quella di tre consigliere regionali, due dei quali organici al PD. L'onorevole Tonino Scalzo, l'onorevole Neri e l'onorevole Sergio, tre consigliere regionali organici alla maggioranza hanno deciso di formare un gruppo in dissenso proprio con la linea del governo regionale. Antonio Scalzo per esempio non è un dirigente così, lui dice che continua a rimanere nel centro-sinistra però nel PD non ha più nessuno con cui colloquiamo. Obiezioni legittime, noi da tempo diciamo che questa maggioranza, questo PD andrebbe radicalmente cambiato. Ma onorevole Scalzo, nella deriva del PD, lei soprattutto quello calabrese, lei una qualche responsabilità dovrà pur averlo. Lei è stato l'uomo di fiducia di quell'area del PD molto influente che proviene dalla democrazia cristiana. È stato l'uomo di riferimento di Guerini, potente consigliere di Renzi in Calabria, è stato al fianco dei Renziani e di Magorno durante i congressi, ha ricoperto ruoli importanti, ha detto la sua per esempio su tante scelte nelle aziende sanitarie di questa nostra regione. Oggi dice che lei non riesce più a parlare con gli organismi del PD, che non riesce più a parlare con il governatore della Calabria. Altri sostengono invece che da tempo si sieda ai tavoli di altre formazioni politiche che ormai sono oltre il centro-sinistra. Noi non sappiamo com'è la verità, quale sarà la verità e come si determinerà questa storia. Certamente, onorevole Scalzo, nel fallimento, nel presunto fallimento politico della giunta Guido Oliverio, del PD e del centro-sinistra, lei ha uguali responsabilità, se non maggiori, perché proviene da una continuità legata all'esperienza passata. Questo sentiamo di registrare come cronisti della strada e come cronisti che ogni giorno sentano e registrano anche gli umori di quei militanti del PD che ci hanno creduto e magari continuano a crederci. Quello che state dimostrando, il segnale che state dando, l'esempio che state portando avanti è un'offesa rispetto a tutti coloro, militanti e nonno, hanno creduto in una formula politica, in una classe dirigente, che purtroppo, come il suo comportamento e quello dei suoi colleghi che si apprestano a fare un altro gruppo, dimostrano, è miseramente fallito. Grazie a tutti!